Assassino, 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 ci ricordiamo di te, ce lo invitiamo, dottorino, vieni qua, è stato accolto prima da uno sparuto gruppo di fascinorosi Novax al grido di assassino e poi da un folto pubblico che lo ha invece applaudito per il suo lavoro e per il suo libro, il professor Matteo Bassetti che oggi pomeriggio ha presentato al Casinò Il mondo e dei microbi, la nostra battaglia contro i nemici invisibili. Alcuni minuti prima del suo arrivo una decina di manifestanti con tanto di cartelli ha atteso Bassetti che invece di transitare dalla classica porta teatro è entrato al Casinò direttamente con la macchina. Una volta dentro il foyer è risposto alle domande dei giornalisti e poco dopo è stato assalito e minacciato da alcuni manifestanti. Difeso dalle forze dell'ordine è potuto poi entrare in teatro confermandoli non voler rispondere alle invettive. Basta guardare chi è in teatro ha detto. Basta guardare chi è in teatro ha detto.